Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, buone notizie in arrivo per i nati di mercoledì, gli altri dovranno accontentarsi della routine. Toro, cambiate il vostro atteggiamento e soprattutto siate più riservati. Gemelli, non abbiate fretta di concludere un accordo che vi è stato proposto. Cancro, tenderanno di farvi ingelosire in tutti i modi possibili e immaginabili, opponete un atteggiamento sobrio e composto. Leone, venere, vi consiglia di prendere voi l'iniziativa per risolvere una questione spinosa in amore. Vergine, una sorpresa potrebbe arrivare da un momento all'altro. Bilancia, è giunto il momento di fare delle scelte da cui potrà dipendere tutto il vostro futuro. Scorpione, fate in modo da non prendere decisioni avventate e affrettate. Sagittario, una speranza che riponevate in alcune persone andrà vana e ne seguirà qualche problema. Capricorno, un problema potrebbe rivelarsi più complicato di quello che avevate previsto. Acquario, una vecchia conoscenza tornerà a farsi viva. Pesci, potrà nascere un nuovo amore o riaccendersi una vecchia fiamma. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie.